È inutile girarci intorno. Il Livorno Calcio, se non vuol gettare alle ortiche una stagione intera, dovrà trovare il sistema di vincere tre partite su tre o almeno le due casalinghe consecutive che lo attendono, a cominciare dall'anticipo di domani sera contro la Virtus Entella, in attesa del Vicenza. Poi si vedrà, anche perché al momento gli Amaranto sono fuori dal playoff. L'Avellino battendo il Pescari è andato a più due e dunque non è possibile permettersi altri passi falsi, con la speranza che siano gli altri ad inciampare. I Liguri dal canto loro arriveranno all'ardenza con il coltello tra i denti, visto che hanno a loro volta maledettamente bisogno di punti per la salvezza e devono vincerne almeno due su tre. Insomma, un bel gazza buglio che in parte gli Amaranto si sono andati a cercare da soli, con una serie di prestazioni non all'altezza. Panucci lo sa bene ed entra a gamba tesa dentro la questione. La partita di domani sarà fondamentale, afferma. La squadra adesso sta bene a livello fisico e sono molto contento di quello che i ragazzi stanno facendo. In questo momento per battere il Livorno bisogna fare fatica. Contro i Liguri però sarà una partita difficile, non perdono mai equilibrio e dovremo avere carattere, cattiveria e agonismo. Tutti a disposizione gli Amaranto, a parte i noti infortunati. Lecito attendersi il duo vantaggiato Galabinoves sin dall'inizio, con gli Elenici a sostegno. A centrocampo viaggianti e Luci sembrano in graspolvero. Credersi per i tifosi Amaranto è dunque più che lecito.